Questa è la camera da pranzo con le finestre che danno su San Salvatore in Lauro, una piazza bellissima. Qui c'è la cucina, l'americana, con tutte le più moderne attrezzature. E poi, di qua, ci sono i servizi igienici, il bagno proprio ultimo tipo, con le maglioliche pregiatissime. E il riscaldamento è autonomo, gli piace? No, no, l'appartamento è bello, anche ben distribuito. Forse, volendo puntualizzare, è un po' troppo impegnativo, eh? Sì, sì, forse, sì. E lo sarà un po' umido? Umido? Oh, e queste sono case antiche, case solide, ben fatte, con i muri di tuffo, come si facevano una volta. I pavimenti sono in marmo di Carrara. Muri così non se ne fanno più. Buon appetito. Buon appetito. Grazie, grazie. Beh, certo che qualche riducco bisogna farlo. Eh, beh, sì, eh. Per esempio, le chiavi messe lì stanno male. Eh, beh. E quanto costa? Ah, beh, poco. Cosa vuole che sia per lei, dottore? Io lavoro in banca. E i banchieri? No, bancario. Ah, beh, non fa molta differenza. Comunque, cosa vuole? Per un appartamento così, 600 mila lire al mese, proprio niente. Eh. E poi ci sono 15 milioni dei mobili. Eh, allora bisogna che ne pari con lui, sai, viviamo insieme. Ha sentito, Gaetano? Eh? 15 milioni. Tu cosa ne pensi? Visto? Non è d'accordo. Non è d'accordo.